Buongiorno a tutti e do il benvenuto alla dottoressa Daniela Cattaneo, consulente del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di Aisla, medico pagliativista e procedo subito con la prima domanda, Daniela se sei d'accordo. Che cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? La motivazione nasce dopo, prima c'è stato l'incontro, ho incontrato una persona che mi è stata proposta da alcuni colleghi che era affetto da SLA e ho scoperto che c'era una tematica interessante che era la comunicazione con persone che perdevano lentamente ma progressivamente la capacità di comunicare, un aspetto che identifica la dignità della persona. Pertanto ho ritenuto importante da pagliativista affrontare una patologia che avesse questo aspetto, oltre alle altre tematiche, quelle motorie, quelle respiratorie, alimentari, ma mi sembrava che il discorso della comunicazione fosse un elemento che sempre da pagliativista non potevo prescindere da non affrontarlo. Grazie. Quali sono state quindi poi, mi sembra di capire in seguito, le motivazioni ad accogliere la collaborazione con il Centro di Ascolto e Consulenza di Alsa? Quando mi è stata proposta questa possibilità mi sono resa conto che nell'ambito delle cure palliative, di cui tutti già a quel tempo ne parlavano perché parliamo del 2011, in realtà non c'era una competenza specifica. Io avevo incontrato la prima persona nel 2004 e mi ero permessa di affrontare tutte le tematiche del paziente affetto da SLA all'interno degli istituti di ricerca, di riferimento e lì ho capito che mancava in realtà una competenza reale sull'area palliativa e quindi è stato per me normale e assolutamente coerente offrire le mie conoscenze che avevo acquisito negli anni precedenti, non solo alle persone con cui io avevo la possibilità di avere un incontro diretto, ma anche coloro che eventualmente poteva averlo in maniera indiretta attraverso un centro d'ascolto. Grazie. Passerei all'ultima domanda, forse un po' quella più articolata. Riesci a descrivermi un caso, una situazione particolarmente significativa per te e per la quale sia stato in qualche modo possibile misurare gli esiti e le risultanze di un'azione del centro di ascolto? Un caso è interessante perché insomma in realtà per la mia modesta esperienza di casi ne incontro e di persone, di famiglie ne incontro. Potrei dire che c'è una situazione che assuma una serie di tematiche, tipiche dell'area palliativa e nella fase non solo avanzata, ma anche nella fase intermedia della malattia, quindi non nella fase in cui la persona magari ha già fatto tutte le scelte. Quella è relativa alla consapevolezza dei sintomi che continuano a cambiare. Molti pensano che la problematica della SLA sia solo correlata alla disfunzione, cioè alla perdita di funzionalità, quindi a quello che viene detto la perdita quotidiana di alcuni pezzi della propria autonomia. In realtà la cosa purtroppo spiacevole è che questo è associato a sintomi di tutti i tipi, non parlo solo della classica sintomatologia dolorosa, ma anche a sintomi in particolare, tipo il prurito, tipo la difficoltà per quanto riguarda l'insonnia, ma un'insonnia particolare, un'insonnia che non è propriamente la mancanza di sonno, ma l'incapacità di mantenere un sonno a lungo. Oppure un'altra tematica molto particolare è quella legata alla termoregolazione, una diversa modalità di sentire la temperatura dell'ambiente esterno e quindi il proprio disagio nei confronti di questa condizione. Ed è interessante da palliativista concedere a loro la possibilità di esplicitarlo e di non negarlo e di non considerarsi quindi cose strane per la loro malattia, ma in realtà permettere loro poi di trovare con loro delle soluzioni e delle strategie. Ecco questo capita e tuttora ho una persona che mi ha chiamato, ma proprio recentemente parliamo di due giorni fa, che mi ha espresso questa difficoltà di sonno, stiamo parlando di un paziente in tracheostomia e in alimentazione enterale, quindi una persona in una malattia avanzata che ha fatto delle scelte, ma con questa insonnia molto disturbante che non ha dato risposta alle classiche medicine che tutti noi conosciamo, per cui abbiamo dovuto fare una rivalutazione della quotidianità e anche delle risposte possibili dei farmaci rispetto al quadro. Beh, direi che ci hai così illustrato degli aspetti non sempre così noti rispetto alla malattia, all'evoluzione, ai sintomi e quindi io non posso che ringraziarti e salutare quindi la dottoressa Daniela Cattaneo e ringraziarla per questi spunti. Grazie. Grazie a voi.